Amici di Youtube ben trovati da Marco Liguori in questo video parliamo di un clamoroso fatto di cronaca perde la vita a soli 15 anni a seguito di un malore improvviso prima di saperne di più vi ricordo che qualora questo video dovesse superare i 200 mi piace ne pubblicherò immediatamente uno nuovo nella giornata di ieri un grave lutto affunestato il mondo dello sport italiano questo in foto si chiamava Diego Gigante una passione sincera per il mezzofondo il ragazzo era tesserato con l'atletico fiano romano il comune dove risiedeva e come un fulminaccio al sereno Diego è stato colpito da un malore improvviso il suo cuore si è fermato a soli 15 anni il ragazzo si trovava sul campo di allenamento quando improvvisamente si è accasciato al suolo a nulla sono valsi i tentativi di soccorrerlo dei sanitari del 118 pur giunti sul posto tempestivamente al momento il caso di Diego è al vaglio degli inquirenti pare che si stia indagando per omicidio colposo sotto l'occhio del ciclone i controlli medici che pare non siano stati fatti pare che Diego avesse qualche malformazione ma tutto ciò lo scopriremo nei prossimi video amici di youtube io vi ringrazio per l'attenzione lasciate il vostro commento iscrivetevi al canale condividete questo video io vi ringrazio per l'attenzione lasciate un po' di più Grazie a tutti.